Un altro elemento fondamentale che ha trovato una grossa sinergia anche con il Parco Nazionale d'Abruzzo è stata la selezione del Mastino Abruzzese, un cane di grossa taglia che ha la grande capacità di proteggere il gregge proprio dai grandi predatori che in queste aree protette si sviluppano ancora fortunatamente in maniera eccellente come i lupi o gli orsi e naturalmente la presenza di questi cani funziona come deterrente proprio per limitare, contenere i danni che questi grandi predatori sono in grado di poter fare. Grazie a tutti Grazie